Da costo a risorsa, la lana delle pecore allevate sull'alta Murgia non più un rifiuto da smaltire o peggio ancora da nascondere, bensì una nuova frontiera di investimento. A Gravina in Puglia si tirano le somme di un progetto, Partnership il suo nome, che già al terzo anno, promosso dall'ente Parco con la collaborazione del consorzio di aziende agrozootecniche Murgia Viva e da un centro di raccolta di Biella, ha un costo complessivo di 39 mila euro. L'obiettivo è individuare i soggetti che possano in futuro gestire la filiera della lana dal punto di vista sociale, organizzativo, produttivo ed economico, nonché di ricercare sbocchi per le produzioni, dall'abbigliamento all'utilizzo in edilizia. Noi stiamo recuperando l'interesse degli allevatori a raccogliere la lana, a conferirla correttamente ad un consorzio che abbiamo selezionato e a affidarla al mercato. Il mercato in questo momento, dalle ultime aste, sta dando dei buoni risultati. La lana conferita presso i magazzini del consorzio di Biella viene selezionata e classificata in lotti omogenei e viene poi venduta grezza tramite asta internazionale. In tutto 80 le aziende coinvolte. La vendita ha raggiunto fino agli 80 centesimi al chilogrammo, che è un buon prezzo. Hanno migliorato anche la tecnica di raccolta, quindi anche loro stanno facendo esperienza, perché ovviamente più la lana che spedisce è buona e più te la pagano.